Non solo appassionati e con il pollice verde, la prima edizione di Flora Riano è riuscita a raccogliere l'entusiasmo di tanti, fino ai più piccoli, coinvolti nel laboratorio per mettere a dimora piantine di erbe aromatiche in villa comunale. I colori e i profumi dei fiori di primavera hanno ridato vitalità al centro storico del Tricolle, un po' troppo sonnecchiante, e le risate e la gioia dei bimbi hanno reso vivace l'atmosfera del parco cittadino. Insomma, il bilancio non può essere che positivo, commenta a prima battuta l'assessore Filomena Gambacorta, che ha ideato e collaborato con l'ufficio commercio di Palazzo di Città per organizzare la fiera a tema. La stessa, delegata anche al bilancio comunale, puntualizza come l'evento sia stato a costo zero, se non fosse per circa 70 euro spesi per i manifesti promozionali, eppure sono ancora da conteggiare gli introiti provenienti dall'occupazione del suolo pubblico da parte degli espositori. Per Flora Ariano si è scelto innanzitutto di coinvolgere le risorse umane dell'amministrazione, non appoggiandosi ad associazioni o intermediari. Poi l'allestimento è stato curato dagli stessi commercianti arianesi che si sono cimentati, chi nell'addobbo delle proprie vettrine, altri anche nell'abbellire lo spazio antistante le attività e altri angoli meritevoli di attenzione. Qualche reticenza, per onor del vero, si è registrata. Su 15 espositori, provenienti dall'Ufita, dal Sannio e anche dal Foggiano, solo due erano di Ariano. Durante la fase organizzativa, il personale del Comune ha ripetutamente contattato gli operatori arianesi, ma dopo diversi no, l'ingradaggio è andato oltre. Ciò nonostante, l'idea è stata promossa e sempre la gamba corta mostra piena disponibilità nel programmare un'iniziativa simile a Florariano, accogliendo consigli e proposte di fiorai e vivai della città.